siamo qua a casa della signor Vona Domenico il nostro MacGyver paesano ha inventato la macchina per schiacciare le olive inventate insomma ci ha lavorato un po guardate che che sistema una cosa proprio adesso la mettiamo in atto vediamo dai Mimmo puoi andare guardate tutto schiacciato una cosa proprio fenomenale questo il signor Mimmo Vona detto spagnolo Pagliarelle guardate il panorama di Pagliarelle la sua casa è un campione veramente guarda fai un giro fai un giro fai vedere guardate tutte schiacciate benissimo benissimo arrivederci